Si fa. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla realizzazione dello Stadio della Roma. È a Tordivalle, sulla via del mare, non distante dall'Eur, nell'area una volta occupata dall'Ippodromo, che nascerà la cittadella di proprietà del Club Giallorosso. Il voto oggi, al termine di una lunga maratona, un sì che deve parte del suo successo ad una delibera della Giunta Capitolina che aveva sancito l'interesse pubblico dello stadio. Il progetto provvede ben oltre un semplice stadio. L'impianto è destinato ad ospitare 52.000 spettatori, 14.000 posti, la Curva Sud, con ristoranti, bar, spazi commerciali aperti tutti i giorni. Ci sarà poi una struttura che ospiterà gli allenamenti della squadra. Il complesso comprenderà due campi regolamentari, un campo di piccole dimensioni e poi palestre e impianti di riabilitazione fisica. Un'opera dal costo di quasi 250 milioni di euro, finanziato privatamente dal gruppo del Presidente Pallotta. Ma altri soldi e tanti devono essere spesi dal privato per una serie di opere pubbliche. 50,45 milioni per il prolungamento della linea B da Magliana a Tordivalle, 7,5 milioni per il passaggio pedonale tra la stazione Magliana e la linea ferroviaria e lo stadio, 38,6 per l'adeguamento e unificazione di via Ostienza e via del Mare, quasi 100 milioni per la realizzazione della nuova viabilità tra l'autostrada Roma-Fiumicino e la nuova Ostienza e via del Mare. 5 milioni di finanziamento poi serviranno per gli interventi, per prevenire eventuali rischi idraulici dal fosso di Vallaranello e gli argini del Tevere in corrispondenza del fosso stesso. Per quanto riguarda la proprietà, lo stadio rimarrà in uso permanente della S Roma per tutta la durata dell'accordo trentennale tra la società sportiva e il proponente.